Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di One TV e ben ritrovati per l'appuntamento con One TV News. Gli agenti del Comando Intercomunale di Polizia Locale di Castano Primo e Nosate, con l'ausilio di equipaggi del Commissariato di Polizia di Stato di Via Ugo Foscolo a Busto Arsizio, nelle prime ore della mattinata hanno arrestato all'onate Pozzolo un soggetto con le iniziali EMR classe 1983, pluripregiudicato e da anni gravitante nel mondo degli stupefacenti. Simultaneamente sono state effettuate perquisizioni e controlli abbienate a frazione del Comune di Magnago, dove all'interno di uno stabile si è trovata droga, denaro contante e bilancini di precisione. Le evidenze hanno portato al deferimento a piede libero di una seconda persona addomiciliata nell'edificio che è stata quindi posta sotto inchiesta. Nel corso dell'operazione, all'interno di un altro immobile, è stato anche controllato un terzo soggetto che, avendo addosso una modica quantità di hashish, si è visto sequestrare lo stupefacente ed è stato multato. L'attività di indagine odierna trae le mosse dall'arresto nei mesi scorsi a Castano Primo di una complice del gruppo di spacciatori attivi nell'Alto Milanese e in provincia di Varese, la quale, intercettata da una pattuglia della polizia locale, era stata trovata in possesso di oltre 60 dosi tra cocaina ed hashish. L'uomo arrestato oggi, in quell'occasione, era riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Continuiamo con la cronaca e ci spostiamo però nel Cremonese. La polizia di Stato di Cremona infatti ha dato esecuzione all'operazione Aguato nei confronti di sette persone di origine indiana, indagate per i reati di sequestro di persone e lesioni personali aggravate in concorso nei confronti di un loro connazionale. I sette uomini, tutti di età compresa fra i 25 e i 40 anni, sono i presunti autori di una violenta aggressione avvenuta il 29 gennaio 2022 nei pressi di Romanengo. L'indagine ha avuto inizio quando un trentenne indiano, nella serata, era stato ricoverato al pronto soccorso di Crema, in stato di semi-incoscienza, con ferite da taglio in tutto il corpo, oltre a numerosi traumi. L'agguato era stato perpetrato da parte di alcuni suoi connazionali, mentre la vittima attendeva l'arrivo di un amico nei pressi di Bottaiano. Il trentenne era stato inseguito ed investito, mentre tentando di fuggire era finito in un vicolo cieco ed era poi stato picchiato, legato e costretto a salire sulla vettura con i suoi aguzzini, che lo avevano portato in un luogo isolato e qui malmenato, con bastoni, mazze di ferro e armi da taglio. Alla base della violenta spedizione punitiva, secondo gli investigatori, ci sarebbero stati dei contrasti avvenuti negli ultimi mesi durante episodi criminosi e un tentativo da parte degli aggressori di affermare la propria predominanza territoriale. Cambiamo decisamente argomento perché anche per la stagione 2022 è partito il programma turistico dei treni storici in Lombardia, dopo il successo raggiunto negli anni passati. L'assessore regionale all'infrastruttura e trasporti in mobilità sostenibile, durante la conferenza stampa a bordo del vagone storico presente in stazione centrale a Milano, ha presentato insieme al direttore generale della Fondazione FS, l'ingegner Luigi Cantamessa, il calendario delle iniziative di quest'anno. Le corse saranno disponibili fino al 23 di ottobre. Vediamo. Regione Lombardia con il servizio dei treni storici si continua ad investire da quattro anni a questa parte in maniera strutturale su un'esperienza da offrire ai propri cittadini, ma non solo ai propri cittadini, ma anche a tutti i turisti che vogliono avere un modo diverso per riscoprire i territori e la bellezza dei territori lombardi. Da quest'anno ci sono anche tre nuove tratte, Colico, il Besanino ed una speciale sulla Lomellina, per la Lomellina vi danno poi l'idea e vi daranno l'idea, daranno tutti noi l'idea di quanto questo servizio è non solo apprezzato ma anche richiesto dai nostri cittadini. Siamo arrivati, abbiamo sfiorato i 5.000 passeggeri negli scorsi anni, nelle scorse edizioni. Da quest'anno ritorniamo con le 23 corse da aprile ad ottobre. Generalmente vanno sold out non appena si aprono le prenotazioni e questo a conferma del fatto che è veramente un'esperienza che tutti noi aspettiamo di vivere. Ecco, insomma un impegno di Regione Lombardia anche dal punto di vista economico che ci ripaga però con grandi soddisfazioni e grazie devo dire alla collaborazione di Fondazione FS e dall'anno scorso anche del Ministro Garavaglia che porta l'esperienza dei treni storici in Lombardia in tutta Italia per fare in modo che insomma il grande risultato lombardo possa essere copiato anche da altre realtà. I treni storici che Fondazione Ferrovie dello Stato mette in servizio in Regione Lombardia esprimono il concetto di bellezza che solo l'estro italiano è riuscito ad applicare dal 1920 fino al 1970 su questi treni. Basta guardare il poggiatesta, basta guardare il tavolino, basta guardare la finezza con la quale il viaggio ti avvolge tra tam tam, velluto, finestrini che si aprono. E' questa l'esperienza di un mercato nuovo, emergente che è il turismo ferroviario esperienziale. E' da ieri online Amici WeCare 2.0, la prima piattaforma digitale di supporto ai pazienti sviluppata da Amici Onlus, associazione di riferimento per le persone con malattie infiammatorie croniche intestinali e nello specifico soprattutto malattie di Crohn e colite ulcerosa. Vediamo insieme di cosa si tratta. E' online Amici WeCare 2.0, la prima piattaforma digitale di supporto ai pazienti sviluppata da Amici Onlus, associazione di riferimento per le persone con malattie infiammatorie croniche intestinali come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Si avrà la possibilità di prenotare e scaricare esami di laboratorio che saranno effettuati anche tramite prelievi a domicilio, di fare teleconsulti gratuiti con specialisti, infermieri, psicologi ed esperti legali fino al telemonitoraggio grazie all'ausilio di dispositivi indossabili d'avanguardia e certificati. Oggi noi abbiamo bisogno di completare il processo di tipo culturale, cioè la rivoluzione deve diventare non solo un fatto concreto in termini di azioni, ma un fatto culturale che metta realmente il paziente al centro di quello che è la sua condizione e che ovviamente lo metta nella condizione di poter usufruire di quelli che sono i servizi a sua disposizione in maniera sartoriale tagliati su misura. La piattaforma mira a promuovere un ruolo più attivo del paziente, in modo che sia più coinvolto e consapevole del proprio percorso di cura. La proposta è quella di un modello di salute partecipata che sfrutti le potenzialità della digital health. Il rapporto fra medico e paziente in effetti cambia, cambia perché si introduce un terzo elemento che è quello della medicina digitale, che è uno dei punti fermi del PNRR e permetterà sostanzialmente di mettere veramente in piedi quella che è la telemedicina, il teleconsulto e al paziente di avere in tempi rapidi una serie di consulti e accertamenti sia dallo specialista di riferimento che da altri specialisti di cui potrebbe avere bisogno per gestire al meglio l'acuzie e anche la patologia cronica. Inoltre il nostro ruolo come società scientifica potrebbe essere e sarà quello anche di acquisire questi dati che arriveranno, queste fonti di dati molto ampie e di utilizzare a scopo di ricerca per migliorare ulteriormente gli outcome e la conoscenza di queste patologie. Amici WeCare 2.0 consentirà la raccolta e l'aggiornamento di una enorme quantità di dati che si candidano a diventare l'esempio più concreto e maturo di patient reported outcome costruiti a partire da un'infrastruttura digitale. Nell'innovazione del nuovo Servizio Sanitario Nazionale le informazioni hanno un ruolo fondamentale perché tu con le informazioni, oltre che dare le informazioni, le informazioni che ricevi ti servono per programmare, ti servono per poter strutturare quelle risposte per una sanità che non è statica ma è in continua evoluzione. Il Comitato per il Centenario della nascita di Felice Musazzi, che aveva avuto i Natali a Legnano nel 1921, propone anche a Bustorstizio a Villa Calcaterra dal 30 aprile al 15 di maggio la mostra Felice di essere Musazzi, attraverso i cimelli originali, i costumi, i copioni e i rari filmati d'epoca che commemoreranno la figura di Felice Musazzi, un uomo che ha saputo trasformare una passione nella propria ragione di vita, contribuendo a tenere viva in maniera determinante una tradizione linguistica e teatrale che stava scomparendo e che tuttora è a rischio. Lo spazio espositivo permette di ricreare all'interno della sala del camino di Villa Calcaterra l'ambiente del camerino e la camera da letto quindi di Teresa e Giovanni. Il camerino è corredato dai vestiti e dagli oggetti di scena di Musazzi, la vulpa, la borsa, il cappotto, le scarpe, la parrucca. La camera da letto riproduce fedelmente la scenografia originale di tante scene degli spettacoli ed i legnanesi. In sinergia con B.A. Book, il festival del libro e dell'editoria, il 15 maggio alle 21 a Villa Calcaterra sarà presentato il libro Felice di essere Musazzi, un uomo e la sua storia, in un ideale passaggio di consegna tra manifestazioni. La mostra, che sarà inaugurata domani, 30 aprile alle 12.30, è visitabile il venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Per i gruppi è possibile accedere solo su prenotazione inviando una mail a eredimusazzi chiocciolagmail.com. Passiamo agli eventi. Se la pioggia del 25 aprile aveva scoraggiato purtroppo il concerto della liberazione a Il Salice Legnano, il centro sociale Pertini, fortunatamente la giornata verrà recuperata domani, sabato 30 aprile, con appuntamenti di pregio soprattutto per tutti coloro che amano la buona musica. Si parte nel pomeriggio quindi alle 14.30 per il concertone. Ad esibirsi per primi saranno i Vintage Violence. Si continua poi con i Matrioska in programma dalle 15.45 alle 17, Babaman dalle 17.15 alle 18.15 e Brusco dalle 18.30 alle 19.30. Al termine ci sarà anche un after show con DJ Set. Per accedere al centro Il Salice di Mazzafame.Lignano sarà necessario il Green Pass e la mascherina. L'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti. Se volete ottenere informazioni potete scrivere VVA WhatsApp al numero 349 84 36 452. Un viaggio a tinte forti tra le pagine più toccanti dei promessi sposi sulle tracce della Gertrude Manzoniana, uno dei personaggi più affascinanti e controversi della storia. La monaca di Monza chiude la stagione del teatro civile al Giudita Pasta di Saronno giovedì 5 maggio alle ore 21. Un percorso ritroso che attinge ai capitoli censurati dal romanzo, quelli di Fermo e Lucia, in cui le tristi vicende della monaca vennero narrate nella loro interezza e che poi l'autore preferì invece tacere nella celeberrima formula La Sventurata rispose. Questo spettacolo è una feroce diatriba dell'anima con se stessa che ci mette di fronte la difficoltà del poter giudicare questa donna sventurata che non conombe mai l'amore e che da vittima divenne essa stessa carnefice. I biglietti sono ancora disponibili al bottiglino del teatro Giudita Pasta di Saronno oppure sul sito online. E in chiusura vi diamo notizia che per l'anticipo dell'ottava giornata della pool salvezza vivo Serie A2 di pallavolo, le azzurri nel Club Italia volano in Sicilia per incontrare la Sigel Marsala Volley. Potrete vedere il full match questa sera alle 21 su One TV, canale 79 del digitale terrestre in tutta la Lombardia e Piemonte orientale. Per questa settimana si concludono i nostri appuntamenti con l'informazione locale. Il nostro One TV News tornerà a partire da lunedì sempre alla stessa ora e sempre sullo stesso canale. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di programmi e buon weekend.